Oh, caspita, ma che bella coppia di smidallati! E io dovevo sfidarli? Ma che accidenti! Fammi indovinare, il vero guardiano del fuoco non poteva venire e ha mandato il suo fattolino? Oh! Ehi! Mega fiamma! Era più fiacco di una puzzetta dei Morcogon! Mega fiamma! Alla faccia tua? Beh, alla spalla tua? Boom! Ehi, Darkan! Sei così pronto da doverti coprire la faccia con quel capuccio? Come ti permetti? Mega fiamma! Devo ammettere, non sei andato male. E tu hai colpito Xator molto bene, Nuclear. Credo potremmo andare d'accordo. Come un ardente e un Morc. Sì, ma lui è un Morc. No, tu sei il Morc. No, tu sei il Morc. L'hai fatto di proposito. Non è colpa mia se gli ardenti sono fermalosi. Tu sei il Morc! Tu sei il Morc! Prima i sigilli, poi il guerriero Mecha e adesso il cristallo. Esiste qualcosa che il grande Riff non sappia fare? Smettere di vantarsi per cinque minuti? Boo! Pensi che questo mi fermerà? Nuclear sa cosa fare. Te l'ho detto. Aspettate! È sovralimentato dal cristallo. I suoi poteri oscuri e la Mecha Energia si sono fuse per creare... l'energia Omega. Sì, questa volta il potere non è affatto un'illusione. Acroduplicatore! Sei stato davvero impressionante. Ora sei due volte più brutto. Credi davvero di farmi paura? Rego bene la pressione. Nuclear non raggiungerà mai il cristallo se deve combattere contro Saton. Mecha Fiamma! No! Miserabile Moccioso, mi ha imbrogliato. Ora i tuoi problemi si sono moltiplicati. No! Ci vediamo presto, ragazzi! Sì! Gormiti, gormiti, raggiungibili. Chi mi fermerà? The legend is back. Legend is back. Gormiti! Gormiti!